Dentro il PD, ma non come corrente, bensì come pungolo per il partito e più in generale per le diverse forze nel perimetro del centro-sinistra sui temi fondamentali, prima che per lo sviluppo, per la stessa sopravvivenza del Molise. È la mission di partecipazione democratica, la neocostituita associazione fondata dal dirigente di quel partito e consigliere comunale a Venafro Stefano Buono. Simbolica la location della presentazione, la sede DEM di via Ferrari a Campobasso, a ulteriore testimonianza dell'estranetà in capo al nuovo soggetto, di velletà di contrapposizione dall'esterno rispetto a quel partito. Con al fianco il collega di partito Simone Coscia Buono ha illustrato i grandi temi che saranno posti sul tavolo, cultura, lavoro e ambiente, ma anche le più grandi criticità che affliggono il Molise, sanità e infrastrutture. Il motivo è quello di aprire uno spazio di discussione politica allargata, farlo oggi, dare notizia pubblica di questa nuova avventura nella sede del Partito Democratico regionale per rimarcare che io e molti altri siamo dirigenti regionali di questo partito e assordamente non usciamo dal PD, lo statuto lo prevede, ma non è una corrente del Partito Democratico, vuole essere appunto uno spazio di discussione politica allargata, di approfondimento in un momento storico nel quale c'è grande bisogno di studio, di approfondimento, di conoscenza e non di approssimazione di velocità alla quale siamo abituati. Perché? Perché per dare una mano al Partito Democratico, ma al perimetro del centro-sinistra in generale in Molise, ci sono soci fondatori e persone che stanno aderendo da Venafro a Termoli, chi è scritto al PD, chi è dirigente, ma anche persone che non hanno la tessera del Partito Democratico, ma vogliono dare un contributo di idee. Nascerà quindi uno spazio di discussione libera e approfondita perché oggi il Molise non ha motivo di esistere. Allora se deve continuare ad esistere una regione che ha circa 300.000 abitanti, che ha un saldo demografico negativo per il quale ogni anno, nei prossimi 20 anni, secondo uno studio recente, perderemo 1.500 abitanti, ha una sanità disastrata, non ha grandi infrastrutture che lo rendano percorso e percorribile, allora dobbiamo capire cosa serve al Molise per farlo sopravvivere, per gettare le basi del futuro di questo territorio. Intanto già organizzata da qui al 2030, la Convention d'Esordio si terrà sabato 9 novembre a Venafro.